eccoci qua signore come vi avevo promesso con le modifiche al nuovo mezzo che finalmente è funzionante e sottomonta un 70 che per ora è funzionante speriamo di non riparlo siamo qua con andrea che è dietro alla telecamera che ha in testa niente questo zip alla fine monta un 70 con scarico top performance top nardo performance adesso ci sono un paio di lauretti che dobbiamo farci su d'estetica ancora una volta la gopro porca puttana si è buggata e ha smesso di registrare il video è rimasto soltanto l'audio e quindi tutte le modifiche che abbiamo fatto che non sono in realtà praticamente nulla e non si sono viste e quindi niente non in questo video vedrete soltanto come è venuta è una parte di enduro dove effettivamente provo il mezzo siamo qua con lo zipettino alla fine abbiamo dato solo una mano perché poi siamo venuti qua niente adesso facciamo anche noi un giretto raga si impenna che è una meraviglia c'è da dire non so se provare la salita eh ma è il rodaggio provo questa salita e la discesa qua bisogna prendere confidenza no 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 Sono andato a prenderlo ieri sera Mi ha sistemato Sono andato a prenderlo ieri sera Ho dato 150 dello scooter Perché era a pezzi L'ho preso ieri dal meccanico L'ho sistemato il motore Com'è là? Ma all'YZ? Cazzo è successo all'YZ? All'YZ cos'è successo? Porco di Ma come? In vernave? No, 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 andavo a prenderlo Oddio, sentite il CR Beccatevi che paesaggio butai No, quel cazzo No, 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 andavo a prenderlo No, no, andavo a prenderlo No, andavo a prenderlo Era più easy di quanto pensassi Mi cagavo in mano perché non mi filo di sti freni Mi cazzo è successo il cazzo Ma all'YZ Unterra Il cazzo è successo Il cazzo è successo No, evoca Evoca Il cazzo è successo Io mi stavo per rimanere secco E? Mi stavo per rimanere secco Dove? Nella prima Non hai guardato Stavi per cadere? Qua sono qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove cazzo sono finiti? Là. Porca! Va cazzo duro, boom! Amos! Amos! Te l'ho filmata! Te l'ho filmata! Oh! Oh! Oh, che cazzo! Oh, troppo! non riesco ad abituarmi di solito sono abituato ad avere tanta presa qua e qua poca presa e qua ce la faccio devo fare qua tutta presa e qua poca presa mi sto buggando il cervello ti giuro tu stai scherzando spero cioè l'ha ributtata su solo di peso senza sprezionare no vecchio tu sei pazzo sei un pazzo come cazzo è possibile è in piedi porca troia è in piedi